Buongiorno, buongiorno, la segna stampa in breve di video 33, oggi è venerdì 27 novembre, cielo sereno su gran parte del territorio Alto Adesino, Mohamed Almasbud in regia, andiamo subito a vedere le aperture dei quotidiani che troviamo in edicola, l'Alto Adige dedica la sua prima pagina ai problemi, all'ospedale, prime visite sospese, in ospedale Bolzano è già caos per i nuovi turni, la cronaca ci porta anche in centro città, inaugurazione dell'edizione 2015 del mercatino di Natale di Bolzano, subito folla, confermato il carcere per 10 jihadisti, la presunta cellula di Merano, e ancora rifiuti la SEAB, ora deve ridurre le tariffe, l'ordine che arriva dal comune, la cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige, Vettori, nuovo direttore della Sade, lo ha designato Gatterer, e sempre per quanto riguarda la cronaca, i jihadisti pronti al martirio, il giudice conferma gli arresti per quattro meranesi, importante commessa che arriva dagli Stati Uniti per l'Iveco, l'Iveco del Bolzano, i Marines si affidano all'anfibio prodotto proprio da l'Iveco, attacco Skinnerz contro la Caritas, Valente dice non li temo, la cronaca linguatresca cura del quotidiano Tagest Zeitung, l'approfondimento dedicato al sistema di nevamento artificiale in Alto Adige, uno focus soprattutto riguardo a quello che accade sulla plose, sempre per la cronaca, il quotidiano linguatresca Dolomita, dedica spazio alla politica in apertura a quello che accade all'interno delle Svope, ma dedica spazio anche all'azione di solidarietà a Sutirol Hilft, che si ripete ogni anno in vista del Natale, tre protagonisti quest'anno, il presidente della provincia Compaccer, e il re degli 8000, Reinold Messner. Chiudiamo con la Sutirol e il Virchow Zeitung, ci si occupa di formazione, la riforma voluta da Renzi, la buona scuola, quello che accade in provincia di Bolzano, qual è la situazione in Alto Adige, quali sono le ripercussioni a livello economico. Chiudiamo, chiudiamo con una notizia delle ultime ore, incendio, incendio nella zona di Dobbiaco nel corso della notte, a Cimabranche, due baite sono andate distrutte, nonostante l'immediato intervento dai vigili del fuoco. Vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33. Grazie a tutti.